il ritorno dalla farmacia dopo il tampone effettuato vediamo un po' l'esito tassi tassi tre tassi nove tassi ma siamo in tre tre tassi a testa la media di 2.54 facci lei e dopo facciamo i conti dai metti la roba doccia disinvitata fatta sono perfetti no sono pronti somma si informa da me sto bene come come trina scara beh c'è già la luce non è male gamba di legno no non c'è la manetta bella stanza d'hotel con vista allettati in attesa buonga giornata diremo sera come si dice operazione terminata 13.23 tutto bene ora si aspetta 10.30 finalmente sono riuscito a fare la pipì e quindi di conseguenza si mangia a dare as we drown in the moonlight We could lie, plain sight Yeah, I know we'll be alright And we come alive, we run and life is changing Cause in the end you're all familiar faces We young, wild, enjoy the ride, we made it Made it I don't need you to sleep cause I'm already dreaming I'm already dreaming Say, never leave E' ora di togliere il drenaggio, vediamo se possiamo documentare qualcosa Spero non sia troppo doloroso, vediamo un po' Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità Spero non sia troppo doloroso, vediamo un po' Spero non sia troppo doloroso, vediamo un po' Spero non sia troppo doloroso Spero non sia troppo ridotto Oh, sei pronto E' stato proprio preparato diciamo così così si che voglio cacciare a casa tutti e due e lì ci siamo andati un paio d'ore dovremmo essere con Fabriano stiamo rientrando la zampa fortunatamente non fa male vediamo stanotte se mi fa cantare o no ma per il momento direi tutto abbastanza bene a parte il colore un ritorno difficile non sono le tre ore di macchina che passa sono i tre pia in scale senza sensore sarà lunga sarà molto lunga la zampa la zampa la zampa la zampa la zampa la zampa allora il viaggio è ufficialmente iniziato con il buon matt vedi cosa devi fare vedi cosa devi fare spacchiamo il segno fidati fidati proprio senti il mio ginocchio così così ma la tua schiena come lo senti? avendo te l'ho abbandonato se te ti levi io vado giù certo beh proprio però su questi movimenti non ho dolore 60 precisi però ci abbiamo dato oggi è andato la prima sessione è andata è arrivato il comparone con il kinetec col brossone sembrava crescere dentro un mitra tutto il giorno attaccata al kinetec le sveglie kinetec mattinata kinetec prima pomeriggio kinetec 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 ma questa è l'ultima sessione il giorno 2 va da molto bene eh c'è da dire che è recuperato abbastanza anche e soprattutto in pressione estensione non male non male ma secondo me perché è già stato fatto un primo lavoro eh preparatore alexa come si dice un gatto nel carbone in tedesco un gatto nel carbone in tedesco si dice ha ne calze in belcula sei un poeta sei un poeta sei sai queste cose sono un disastro del mercato permesso? posso? ma questa è una puntata extra luce con il fisio direttamente in casa che devo dare sto servizio? so ciao ragazzi c'è il trenaggio era una passeggiata in fronte ora fai hai quello che devi tranquillo guarda quel sorriso allora? allora? spedio per dirlo tu sono un loco allora scena per dirlo era semplice si ha visto che ti voleva camminare ecco ai 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 ecco il motivo della presenza un salamento! pizze! finalmente una gioia! ecco looooo! in questa settimana trista! hot delivery no 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 e lo rimettiamo chi? ma ciao cucciolotto paura semi? spegniamo? chi è in quel quadro? chi? Mario! non voglio sconfetti fai troppa paura fai troppa paura se non fa paura no no ci è in quel quadro? no 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 no